buonasera è un piacere essere qua a parlare oggi di sviluppo dei talenti in azienda un tema che mi appassiona e di cui si potrebbe parlare per ore anche perché ci si potrebbe interrogare a partire dal talento si nasce o si diventa oggi in verità non affronteremo questo tema ma cercheremo di capire che cosa intendiamo per talento e perché il talento è così importante all'interno della nostra azienda l'agenda vede un po di punti che sono le domande su cui mi sono personalmente interrogata anche nel disegno di un piano di sviluppo di talenti nell'azienda per cui lavoro e sono quelli che appunto affronteremo oggi prima domanda quindi è che cosa intendiamo per talento qua sono alcuni esempi di frasi che appunto anche solo lanciando il programma all'interno della mia azienda abbiamo raccolto da manager risorse umane vertice aziendale e le frasi sono le più disparate non il talento si riconosce subito è uno che dovrebbe si sta e cresce è uno che non si tira mai indietro vuole crescere ispira leadership è una persona con un'attitudine particolare più spiccata degli altri infatti quando si parla di talento spesso si parla anche di un dono si nasce o ci si diventa certo è che la vera cosa importante è dare la possibilità al talento di esprimersi di avere l'opportunità di poter esercitare questa attitudine o questo dono che ha e le aziende vogliono i talenti perché effettivamente garantiscono crescita innovazione e raggiungimento degli obiettivi che l'azienda si è prefissata se siamo tutti d'accordo sul dire che i talenti sono in qualche modo riconoscibili è però importante trovare anche un modo il più oggettivo possibile e condiviso per identificarli anche perché se è vero che i talenti si riconoscono per diverse attitudini o competenze ogni azienda deve identificare i talenti di cui ha bisogno in quel momento alcuni suggerimenti quindi per come riconoscere o definire il profilo del talento all'interno della propria azienda se è vero quindi che il talento è chiave nel raggiungimento degli obiettivi aziendali in un modo più efficace più veloce più performante sia che siano obiettivi di crescita o di cambiamento il piano strategico può essere un buon punto di partenza per capire qual è il tipo di talento che sto ricercando e quindi quali sono i progetti che nel medio termine voglio portare a casa e quindi quali sono le competenze e quindi quei doni che devo ricercare l'attitudine e la competenza si deve accompagnare quindi ad alto potenziale e quando parliamo di potenziale intendiamo proprio quella capacità possibilità di realizzarsi e una delle sfide è l'educazione manageriale perché perché i manager appunto come anche le risorse umane fanno fatica inizialmente a dare una definizione oggettiva di talento bisogna trovare una modalità che sia riconoscibile all'interno della propria realtà e far comprendere prima di tutto ai manager che quando parliamo di talento stiamo parlando di una persona con del potenziale e non solo una persona che performa bene, che è riconosciuta dall'azienda perché magari è socievole o esprime un certo modello di leadership che comunque può essere uno dei criteri da utilizzare nella identificazione del talento. Ci sono quindi strumenti che ci aiutano per la misurazione di questo potenziale ma devono essere accompagnati appunto da altri criteri che ci aiutino a identificare quel profilo che è adatto all'azienda. suggeriamo quindi un processo strutturato che vada innanzitutto a capire che cos'è questo potenziale quindi la possibilità di certe persone di realizzarsi più velocemente di altre. Ci sono strumenti che consentono di fare degli assessment in modo più aggettivo per esempio gli organ assessment che vanno a investigare attitudini, il profilo attitudinale di comportamento, i tratti della personalità ma sono anche psicometrici e quindi vanno a misurare il livello di logica che le persone hanno e ci danno una scala di valutazione. Qua si pone il primo interrogativo, la scala di valutazione può essere per dire da 1 a 100 l'azienda deve decidere qual è il livello di ingresso dove mettere la soglia per le persone che considera di alto potenziale. Perché? Perché vedremo nel corso della presentazione come la necessità di identificare un pool ristretto di persone sia essenziale perché quando si parla di un programma di sviluppo di talenti sono richieste energie, risorse e investimenti elevati non solo in termini economici ma proprio anche di tempo sia delle risorse umane per primo ma proprio dei talenti e dei manager. Quindi dove settiamo questa sticella è il primo elemento da considerare per capire quanto vogliamo che sia restrittivo il pool. Noi per esempio devo dire al lancio del primo programma di sviluppo abbiamo deciso dove posizionare questa sticella solo dopo aver ricevuto le candidature e solo dopo aver fatto l'assessment. Quindi una volta capito qual era il panel a disposizione abbiamo deciso qual era più o meno il numero che pensavamo di essere in grado di gestire. Inoltre nel momento in cui si lancia un programma di sviluppo dei talenti normalmente le candidature che si ricevono danno un riscontro interessante di quello che è il panorama del profilo aziendale delle persone perché chiaramente ci sono aziende che per settore o anche solo per momento di vita dell'azienda pensiamo alle start up possono essere portate più di altre ad avere un alto numero di talenti o di persone anche più giovani perché poi parleremo anche di diversi profili di talenti anche in base alla seniority e altre aziende che magari sono più longeve in termini di proprio di esistenza che hanno una storia più lunga o che sono delle grandi multinazionali dove la ricerca del talento invece può essere ristretta ad un numero minore. Quindi questo deve essere il primo elemento da considerare, da considerare insieme appunto anche la disponibilità che si ha di risorse da investire e vedremo come anche la dimensione aziendale gioca un ruolo importante nel definire qual è il numero. Quindi non esiste come sempre una risposta esatta ma è una riflessione che bisogna fare nel momento in cui si identifica il pool di risorse. Questo assessment del potenziale che ci aiuta nell'identificare nel modo più oggettivo possibile quelli che sono i veri talenti e quindi non lasciare ai bias del manager la candidatura di persone che non necessariamente hanno quel quid in più ma che magari hanno soltanto alcune caratteristiche che noi pensiamo possano essere quelle di un talento. Bisogna identificare altri criteri che come dicevamo ci aiutino a definire il profilo di persone che è necessario per l'azienda in quel momento. Se per esempio l'azienda ha un sistema di valori, di comportamenti aziendali, questo può essere un primo ottimo input per definire il profilo o il modello di leadership, qual è il role model che sto ricercando. Se è un'azienda multinazionale per esempio anche la possibilità di prevedere dei percorsi internazionali per i candidati è un elemento da mettere sul tavolo immediatamente per verificare che i candidati siano anche disponibili a questo tipo di esperienze. Certo anche la performance continuativa è un elemento importante perché dicevamo non bisogna confondere il talento con gli alto performanti ma normalmente i talenti si accompagnano anche a delle performance riconoscibili. Il piano strategico dovrebbe fornire ulteriori criteri di selezione perché come dicevamo se cerchiamo un profilo dotato di alcune competenze il fatto di avere dei progetti strategici di medio termine, medio lungo termine, anche se oggi è più facile parlare di medio visto come cambiano le condizioni continuamente, ecco il piano strategico e i progetti che devono essere portati avanti può anche aiutarci per esempio a decidere di focalizzare l'attenzione solo su alcune funzioni aziendali dove andare a identificare questi talenti. Nel processo di identificazione è importantissimo ovviamente coinvolgere i candidati per valutarne l'interesse perché se è vero che normalmente ci attendiamo che un talento sia anche interessato a crescere nel proprio ruolo e al di fuori del proprio ruolo è anche vero che possono esserci delle contingenze sia personali che professionali che in quel momento impediscono alla persona di partecipare al programma. Quando si parla di un programma di sviluppo infatti stiamo parlando di attività extra che andranno appunto on top di quella che è l'attività quotidiana delle persone e loro devono avere la possibilità di scegliere di partecipare o meno a questo programma perché è evidente che l'impegno che sarà richiesto a queste persone per la durata del programma sarà probabilmente importante. Inoltre durante l'intervista si possono gestire anche le eventuali attese diventa un primo momento per condividere gli obiettivi della persona, quali sono le sue aspirazioni e cominciare a raccogliere i primi elementi che andranno ad aiutarci a definire quello che possiamo chiamare il programma individuale di sviluppo delle persone. Ultimo ma non ultimo, gli incontri con i manager dei talenti. Questo è un passaggio fondamentale, sia perché sono i manager stessi che dovranno candidare le persone che ritengono di talento, sia perché quindi devono essere parte di un processo di educazione all'interno dell'azienda per capire di quale tipo di talento sto parlando, del fatto che sto parlando di persone con un certo tipo di potenziale e aspirazione o con un certo profilo di leadership e quindi la condivisione dei messaggi e la condivisione dei messaggi che i manager dovranno veicolare anche ai candidati perché fino ad ora ho parlato proprio di candidati perché siamo ancora nella fase di identificazione quindi dopo aver percorso tutti i passaggi di assessment, valutazione dei criteri, verrà definito il pool e quindi è possibile che tra questi candidati ci siano anche degli esclusi. Non c'è cosa peggiore che avere una persona che immagina di poter partecipare a un programma di talenti che viene esclusa da questo programma perché se è stata candidata dal manager evidentemente è ritenuta persona di valore un'esclusione da un programma normalmente crea un disingaggio, una demotivazione e quindi avere una risorsa comunque ritenuta di valore sebbene magari non di talento o di talento per l'azienda in quel momento diventa molto rischioso e deve essere gestita bene. Quindi intanto è importante condividere con i manager l'importanza di candidare solo quelle persone che davvero si ritiene possano poi partecipare al programma e infine ultimo passaggio importantissimo avere la disponibilità del manager a sapere che un domani quella risorsa così preziosa per lui dovrà essere magari ceduta perché nel percorso di sviluppo ci si potrà attendere certamente delle crescite verticali ma sappiamo che i passaggi orizzontali in azienda ormai sono più che frequenti e il panel di talent dovrà normalmente essere tra i primi candidati a prendere posizioni anche in altre funzioni. Quindi il manager dovrà essere ingaggiato su diversi fronti a livello di comunicazione del programma, a livello di candidatura delle persone e a livello anche di disposizione di quello che poi l'azienda un domani potrebbe richiedere. Inoltre dovrà anche essere consapevole di quali sarà l'impegno che viene richiesto un domani alle persone che partecipano a questo programma. Quanti talenti deve avere un'azienda? Questa è un'altra domanda che non ha una risposta di fatto perché sebbene ci siano delle indicazioni di ratio che normalmente vanno sul 4-5% della popolazione aziendale in realtà poi è di nuovo una scelta totalmente dell'azienda ma di nuovo vedremo come questa deve essere funzione di una serie di elementi che devono essere valutati coerentemente. Quindi più ce n'è meglio è sì nel senso che chiaramente un'azienda che ha molti talenti probabilmente riesce a performare meglio ma è anche vero che solo quando le persone si sentono parte di un programma e quindi ci si sente che l'azienda si sta prendendo cura di queste persone effettivamente la performance è differenziale. Si stima che addirittura possa arrivare a un 35% in più di performance ma le risorse appunto sono limitate e quindi è bene definire il prima possibile quanti sono i talenti su cui vogliamo e possiamo investire. Detto questo è anche vero che le aziende funzionano nel loro day to day anche grazie a quel 95% che non fa parte del programma ed è quindi importante non dimenticarci che anche loro hanno diritto di essere curate e sviluppate. Come dicevo i programmi dedicati richiedono un investimento economico di tempo e di energia non indifferente da parte di vari interlocutori, abbiamo detto il candidato, le risorse umane ma va da sé è il nostro mestiere e i manager, i manager soprattutto. I vantaggi di avere un bacino più ristretto chiaramente consente di avere delle risorse dedicate in modo più efficace e quindi di investire per esempio sui piani di formazione e sviluppo ad hoc più ingaggianti, più mirati, anche più diversificati. Maggiori possibilità di mobilità interna, questa crescita orizzontale, verticale, poi vedremo ci sono vari strumenti, possibilità di dare crescite interne. Di nuovo, nelle aziende molto strutturate magari sono maggiori le possibilità di passaggi da una casella all'altra ma nelle realtà medio-piccole che poi tra l'altro sono anche la maggioranza per esempio in Italia le possibilità effettive di una casella che si libera sono spesso limitate, contingenti ed è difficile fin dall'inizio di un programma poter promettere alcuni passaggi. Quindi quelle opportunità che si liberano devono essere il più possibile tenute riservate o comunque indicate alle persone che fanno parte del programma di sviluppo in modo che abbiano quell'opportunità di crescita e di possibilità di esprimere quel potenziale e quell'attitudine di cui parlavamo all'inizio. Questo dovrebbe garantirci quindi anche di rispondere meglio alle attese dei candidati che in quel colloquio iniziale che dovrebbe essere stato fatto avrebbero dovuto appunto condividere quali sono le aspirazioni e quindi più facilmente si riesce a concentrare sempre le nostre risorse nel rispondere alle loro attese. Le criticità chiaramente però sono quelle di trascurare i talenti che in quel momento magari non rientrano nel programma e quindi che sono talenti ma di cui l'azienda non ha bisogno in quello specifico momento. E' chiaro che non è ideale però le aziende funzionano anche in base alle risorse di disposizione e quindi bisognerà in qualche modo trovare degli altri elementi, delle altre modalità per prendersi cura di queste persone e non solo perché dicevamo che comunque tutta la popolazione aziendale dovrebbe essere curata. Questo crea evidentemente dei problemi di retention per chi non fa parte del programma, sia che sia stato candidato e che non sia stato candidato. Siamo in una fase in cui si parla continuamente di turnover, di uscite, di un mercato molto dinamico, soprattutto tra i giovani che vogliono cambiare continuamente azienda, questo chiaramente diventa un rischio che l'azienda deve essere pronta ad affrontare. E sappiamo che le uscite generano immediatamente dei costi ulteriori che comunque l'azienda deve affrontare per selezioni eccetera eccetera e sostituzioni delle persone che hanno lasciato la casella. Dicevamo quindi, le aziende funzionano anche grazie al 95% delle persone, dei dipendenti e non solo grazie a quei talenti che certamente sono degli acceleratori, ma che fanno un differenziale, ma non sul day to day. Abbiamo bisogno di tutta la popolazione aziendale. Quindi, la comunicazione è fondamentale e qui si possono prendere diverse strade. Si può decidere di comunicare immediatamente, in modo trasparente, a tutti l'esistenza del programma, sapendo che questo ovviamente comporterà la consapevolezza di quel 95% che non fa parte del programma, dall'altra però da una visibilità che viene normalmente molto apprezzata, invece dalle persone che sono a bordo. E di conseguenza, ancora più importante, diventa proprio quell'attenzione a definire dei programmi di sviluppo e formazione per il resto dell'azienda. Ci saranno chiaramente degli elementi diversi. Per investimento, contenuti e seniority. Tipicamente, infatti, quando si definisce un pool di talenti, si definisce anche qual è il budget che viene dedicato a queste persone, anche proprio persona per persona, e che è tipicamente molto superiore, di molto superiore a quello che viene offerto al resto della popolazione, che comunque, ripeto, ha il diritto di crescere e svilupparsi all'interno dell'azienda. I contenuti possono essere diversi e possono essere ovviamente adattati a seconda della funzione aziendale o della famiglia professionale di appartenenza, perché possono esserci esigenze di formazione più tecnica, oltre che ovviamente delle soft skills, che sono più trasversali per tutti. La seniority è un altro elemento importante. Il talento non ha un'età. Poi, oltretutto, al giorno d'oggi, in cui si fa una grandissima attenzione al tema della diversity and inclusion, e quindi assolutamente vogliamo evitare temi di discriminazione, se è vero che il talento non ha un'età, è anche vero che l'esperienza della seniority, però, possono determinare esigenze e interessi diversi. Infatti, si parla ormai spesso di young talent e silver talent. Possono essere definiti quindi programmi diversi. È più facile, per esempio, che per le persone che definiamo silver talent, e che magari quindi occupano già posizioni di rilievo, anche a livello proprio verticale in azienda, si possano dedicare ai programmi di succession plan. E allora gli interventi saranno diversi da quelli invece per quelli che sono definiti come young talent, che hanno ancora bisogno di esigenze di formazione di un certo tipo, e per i quali ci si può attendere anche una crescita, anche verticale, molto più veloce. Sappiamo che più si cresce verticalmente, e più poi è il tempo che normalmente si passa su una casella prima di poter fare il passo successivo di promozione. I silver talent, oltretutto, hanno una rilevanza fondamentale, sia anche per una questione demografica, per cui sappiamo che c'è un tema di aging, ma proprio perché all'interno dell'azienda hanno probabilmente acquisito un know-how, una consapevolezza delle conoscenze, che diventa importantissimo, possano essere fatte, rese patrimonio comune, e magari, perché no, proprio per quei talenti, per esempio con un programma di mentorship. E quindi, proprio per questi silver talent, si potrebbe fare un corso di formazione per diventare mentor, e affiancarli ai talenti più giovani. Quali sono gli elementi da considerare quando si disegna un programma di sviluppo? Innanzitutto bisognerebbe partire dagli obiettivi che ci si è posti nel definire questo programma. Si parlava prima, per esempio, del piano strategico, e quindi questo dovrebbe aiutarci a capire quali sono le competenze che un domani potrebbero servire per arrivare agli obiettivi aziendali, e quindi aiutare proprio a capire quali sono i contenuti da inserire, per esempio, in un programma di formazione. Inoltre, ricordiamoci che se per esempio tra le promesse del programma c'è anche quello di un acceleratore di crescita, soprattutto se parliamo di young talent, anche questo deve essere tenuto in considerazione nel momento in cui si disegna il programma di sviluppo, nel momento in cui si condividono gli obiettivi con i partecipanti, sempre nell'ottica della gestione delle attese. L'investimento, in questo caso proprio monetario, e quindi economico di costo che l'azienda deve sostenere, è evidentemente funzione del numero di talenti che ho deciso di selezionare, e di quali e quanti strumenti di sviluppo voglio mettere in piedi. Numero di talenti perché è buona prassi definire un ammontare dedicato a ciascuna persona, perché il programma dovrà prevedere sia delle attività condivise, lo vediamo più avanti, ma anche alcune individuali molto specifiche, e normalmente tutte si accompagnano comunque a un effort sia di tempo, ma proprio anche di investimento economico. Quali e quanti sono gli strumenti che metto in piedi, ovviamente hanno anche questi un impatto sul costo aziendale, perché ci possono essere corsi di formazione, corsi di coaching, corsi, come dicevamo, di mentoring, e via dicendo. La dimensione aziendale, non l'ho citata qui, ma è un altro elemento importante per capire quale può essere l'ammontare che posso mettere a disposizione nel mio budget da investire sulle persone, perché di nuovo è innegabile che un'azienda più grande probabilmente può avere anche avere a disposizione un budget più elevato di quello di un'azienda più piccola. La condivisione della durata del programma è un altro elemento, a mio parere, importante, sempre nel piano, diciamo, di comunicazione del piano, perché è possibile gestire meglio le aspettative dei partecipanti, che a quel punto sanno qual è anche il periodo entro il quale devono prevedere questo extra effort che gli viene richiesto per partecipare al programma. dà una migliore consapevolezza ai manager proprio di quell'impegno che viene richiesto alle persone ed è possibile anche per le risorse umane calendarizzare in modo migliore le attività che sono previste dal programma. Infatti, uno degli obiettivi principali è proprio quello di non mandare questi candidati, questi talenti in overload, perché sebbene siano tipicamente persone veloci e talentuose hanno comunque delle attività che devono portare a compimento e normalmente sono anche le persone a cui viene richiesto di più già nel quotidiano. Il livello di trasparenza è un altro elemento che va considerato fin dall'inizio, sia verso l'azienda che verso l'esterno, perché come dicevo la comunicazione, divulgazione dell'esistenza del piano è verso l'esterno sicuramente un elemento importante nel momento in cui si vuole fare attraction per talenti che al momento lavorano altrove. Internamente, però, abbiamo detto, c'è il rischio di creare dello scontento per le persone che non ne fanno parte. D'altra parte, la visibilità, lo vedremo, è uno degli elementi importanti anche di riconoscimento di chi fa parte di quel programma. e quindi a maggior ragione torno ai criteri che abbiamo menzionato prima per l'identificazione del profilo del talento diventano ancora più importanti perché più riesco a identificare delle persone che sono riconosciute da tutta l'azienda come role model e talent e meno verrà vissuto diciamo in modo frustrante da chi non fa parte di quel programma l'esistenza o il riconoscimento di quelle persone. Quindi di nuovo diventa essenziale il processo di selezione perché vengano nominate solo le persone che realmente il più possibile da tutti quelli che li conoscono possono essere riconosciuti effettivamente come talenti. Nel definire quali sono gli strumenti di sviluppo da inserire nel programma per esempio in Zambon abbiamo utilizzato il modello delle tre E che era stato proposto ormai negli anni 70 dal Center for Creative Leadership che è stata comunque pioniera nell'introdurre il concetto di gestione dei talenti e che ha proprio misurato come la cura di questo tipo di persone portasse a un incremento delle performance aziendali fino appunto al 30%. questo modello si basa fondamentalmente sul principio che lo sviluppo delle persone dovrebbe fondarsi su tre assi principali che hanno impatti diversi le tre E sono date da experience exposure and education dove l'experience ha un impatto del 70% cosa vuol dire? che le attività di learning on the job quindi imparare sul lavoro avere la possibilità di sperimentarsi sul lavoro consentono di crescere e hanno un impatto sul proprio sviluppo del 70% rispetto invece per esempio all'education quindi per esempio corsi di formazione che sebbene importantissimi e sebbene siano tra i primi elementi che normalmente vengono inclusi in un programma di sviluppo hanno comunque un impatto solo del 10% perché se non si ha poi la possibilità di applicare quanto ha preso in aula sul proprio lavoro sul proprio quotidiano il residuo dell'impatto che il corso di formazione mi dà è solo del 10% la terza E è data dall'exposure che si stima abbia appunto un impatto invece del 20% ed è proprio quella visibilità data ai candidati che si può realizzare in diversi modi alcuni esempi sono questi quando parliamo di experience e quindi della possibilità di imparare on the job si parla di rotation quindi la possibilità di cambiare lavoro o di affiancare altre persone all'interno dell'azienda nelle attività che loro portano avanti quindi di sperimentarsi in ambiti che non sono quelli diciamo nati o della funzione da cui si arriva questo garantisce un ampliamento delle competenze di cui la persona può disporre ma anche una conoscenza migliore di quelle che sono le dinamiche aziendali aiuta a capire perché per esempio quell'informazione che chiede al collega ci mette 5 giorni ad arrivare e non è disponibile immediatamente perché si creano dei colli di bottiglia ma facilita anche la collaborazione che è un altro elemento fondamentale per le aziende perché nel conoscerci nel conoscersi nello scambiare esperienze nello scambiare quello che sono le necessità per la realizzazione ciascuna della propria attività si favorisce proprio una conoscenza interpersonale che rende normalmente più semplice anche lo scambio di informazioni e la possibilità di collaborare nel futuro oppure si può parlare di project assignment se abbiamo legato per esempio il programma di sviluppo al piano strategico potrebbero essere addirittura progetti strategici su cui si prevede che i talenti possano partecipare questi sono evidentemente attività extra lavorative come dicevamo prima o diciamo extra rutinarie o da job description su cui il candidato il talento viene ingaggiato che si sposano bene normalmente anche alla parte di exposure di qui sotto perché progetti strategici richiedono una collaborazione forte con altre funzioni aziendali e anche la presentazione dei risultati di questi progetti a posizioni più di vertice che ci mettono in un cono di luce importante chiaramente nella parte di experience c'è anche quello di promozione crescita orizzontale o diagonale dicevamo il programma di sviluppo dovrebbe essere un acceleratore nella crescita delle persone la crescita verticale non sempre è possibile e spesso appunto si parla ormai di frequente di crescita orizzontale perché quella che comunque ci consente di raccogliere competenze più trasversali e una conoscenza migliore del funzionamento dell'organizzazione non non irrilevanti stretch assignment per esempio vengo resto nel mio ruolo ma mi viene data una responsabilità aggiuntiva e diversa che mi consenta di nuovo di esprimere il mio potenziale anche diversamente questi sono evidentemente solo alcuni esempi di quello che può essere considerata l'experience l'exposure 20% come dicevamo è la visibilità visibilità in che senso da una parte di community quindi favorire una community di quelli che sono i talenti è sicuramente vantaggioso perché consente loro di condividere esperienze criticità che incontrano anche nel corso del programma o nella gestione per esempio di comunicazioni difficili con il manager o con altri colleghi e la condivisione di esperienze anche rispetto a temi che possono portare innovazione all'interno dell'azienda incontri uno a uno con il vertice aziendale è un esempio di quello che chiamiamo visibilità la possibilità quindi per le persone che fanno parte del programma di incontrare quel direttore con cui non avevano mai avuto l'opportunità di parlare prima comprendere quindi meglio quali sono i contenuti del lavoro di quella funzione o comprendere meglio i contenuti del piano strategico che non incidono direttamente sul lavoro del talento ma che hanno delle implicazioni anche per il resto dell'azienda queste attività di incontri e conoscenza di persone chiave o addirittura appunto al vertice aziendale sono fondamentali perché sappiamo benissimo che avere degli sponsor quindi essere conosciuti da persone chiave che possono diventare sponsor all'interno dell'azienda facilitano fortemente la crescita delle persone inoltre se lo colleghiamo alla parte prima di experience la possibilità dei manager di conoscere quali sono i talenti all'interno dell'azienda li può mettere li può allertare nel caso avessero bisogno di una nuova risorsa di chi sono le persone a cui fare riferimento e addirittura essere loro per primi quindi a richiedere che quella persona vada a lavorare nella propria funzione e quindi favorire quel spostamento orizzontale che è molto vantaggioso per l'azienda e per il talento torna evidentemente il tema che dicevamo prima del manager diretto del talento che quindi deve essere disponibile ma dovrebbe già esserlo fin dall'inizio del programma a sapere che la sua risorsa visto che come abbiamo detto all'inizio è uno che dove lo metti sta potrebbe andare via dalla sua funzione per andare altrove convegni eventi esterni evidentemente sono un altro elemento importante perché la possibilità di avere una vista su quello che accade nel mondo esterno è fondamentale perché consentono di raccogliere dal mercato prassi migliori per esempio o spunti di innovazione o comunque stimolano un pensiero che ci porta fuori dall'autoreferenzialità che ogni tanto si rischia di avere rimanendo all'interno della propria azienda se non si ha la possibilità di avere degli sbocchi e dei confronti con l'esterno l'education quindi la formazione può essere fatta in diversi modi corsi di formazione sono certo il primo strumento che viene in mente quando si parla di un programma di sviluppo e possono essere ovviamente diversificati normalmente ci aspettiamo che ci siano dei corsi di formazione condivisi da tutti i partecipanti ma alcuni possono essere invece più specifici su alcune competenze richieste anche solo ad alcuni di loro altri elementi per lo sviluppo sono invece per esempio il coaching quindi l'affiancamento con una persona certificata che ci aiuta a sviluppare determinate competenze che riteniamo importanti per la nostra crescita si parla di derailer per esempio di aspetti della nostra personalità che in qualche modo ci minano e ci impediscono di esprimere il nostro potenziale al massimo il coach ci aiuta a identificarli e a trovare dei piani d'azione che ci consentano di esercitarci a superare quei muri quegli ostacoli che talvolta ci poniamo quasi da soli ci aiutano ad individuare le cosiddette grey area quindi le aree grigie della nostra personalità su cui dobbiamo lavorare per poter di nuovo esprimere al meglio la nostra performance e il nostro potenziale oppure il mentoring come dicevamo prima ci troviamo in una situazione possibilmente di win-win in cui abbiamo un silver talent e uno young talent il silver talent può diventare il mentor quindi la persona che anche all'interno dell'azienda o esternamente all'azienda ma nel caso nell'esempio che facevamo prima una persona interna all'azienda che viene formata che affianca un talento più giovane per condividere la propria esperienza nella gestione del quotidiano nell'affrontare problematiche specifiche del proprio lavoro o di situazioni contingenti che se il mentor è interno può conoscere anche meglio e supportare proprio una migliore gestione di quelle che sono un po' le dinamiche aziendali tutto questo va considerato sia come parte di quello che può rientrare in un individual development plan quindi il piano di sviluppo individuale dedicato a ciascuna persona a ciascun talento e altre attività che evidentemente sono condivise da tutto il pool di talenti e che quindi dovrebbero favorire quella community che citavamo nella fase di exposure quando parliamo di piano di sviluppo individuale diventa fondamentale l'incontro iniziale che era stato fatto con i candidati e poi gli approfondimenti successivi che vengono fatti con i talenti individuati per gestire le aspettative capire le aspirazioni e quindi definire anche gli strumenti di sviluppo ad hoc che ciascuno di loro dovrebbe avere perché per esempio coaching o mentoring non devono essere cascati a pioggia su tutti i talenti alcuni possono averne bisogno altri no alcuni avranno bisogno di corsi di formazione più specifici alcuni richiederanno una rotation immediata alcuni saranno più disponibili a uno spostamento per esempio internazionale se l'azienda lo consente altri chiederanno delle crescite differenti certo è che in un programma di sviluppo è importantissimo cercare di rispondere il più possibile alle attese aspettative del talento chiaramente tenendo presente quali sono di nuovo anche le disponibilità aziendali quindi di nuovo la comunicazione trasparente di quello che sono le effettive opportunità che possono essere offerte diventa fondamentale e di nuovo il ruolo del manager è altrettanto rilevante quindi un piano di sviluppo individuale che si possa adattare nel tempo e che venga rimodulato a seconda di quali di queste attività per esempio di experience exposure in education vengono distribuite nel tempo quindi abbiamo detto c'è una linea temporale importante nella quale distribuire queste attività la rispondenza alle attese del talento la rispondenza però anche a quelle che sono le reali capacità dell'azienda di fornire questo tipo di supporto e l'ingaggio del manager che gestisca persone che comunque sono normalmente anche demanding essendo parte di un programma che in qualche modo promette possibilità di crescita sviluppo anche accelerate un'ultima sfida assolutamente rilevante nel mondo dei dati che oggi ci permea è quello di riuscire a misurare il successo di un programma sfida assolutamente non facile perché le metriche e non mi spingo a parlare di KPIs non sono sempre facilmente identificabili alcune che io posso suggerire in questo momento sono quelle che troviamo in questa slide alcune sono proprio afferenti a quello che ci dovrebbe suggerire se il programma ha avuto successo quindi se ha funzionato bene e altri invece sono elementi che l'azienda dovrebbe comunque considerare nel riproporre nell'andare avanti con i programmi di sviluppo cosa intendo allora parlando di metriche che misurano il successo del programma abbiamo per esempio passaggi di carriera o cambi di ruolo quindi dicevamo passaggi che possono essere verticali o orizzontali il numero di passaggi di carriera che i talenti che ho in azienda sono riusciti a realizzare è già un buon indice di successo quindi se per dire il 70% delle persone che sono all'interno del mio talent pool hanno cambiato ruolo nel primo o secondo anno di programma sicuramente può essere un buon indicatore è evidente che alcune persone magari sono già in una fase di cambiamento o di crescita ma questo va sempre collegato all'interno del programma di sviluppo e le opportunità che l'azienda sta dedicando alla persona quindi è sempre importante valorizzare questo tipo di passaggi in modo che la persona capisca che è un progetto che è stato dedicato e definito dall'azienda proprio per lui l'uscita dall'azienda dei talenti è un dato a doppia faccia intanto sarebbe interessante riuscire ad avere un dato storico che mi consenta di vedere se una volta avviato il programma di sviluppo sono riuscita a ridurre il numero di uscite dei talenti è anche vero che la guerra dei talenti è un altro tema di cui si discute spessissimo e si sa che sono proprio le persone più ambite dalle varie aziende quindi da una parte bisogna fare un po' pace con il fatto che probabilmente il tasso di turnover quindi il tasso di uscita dei talenti è normalmente anche più alto rispetto al tasso di uscita delle altre persone in azienda ed è anche vero che il fatto che altre aziende vadano a prendere a pescare dal mio pool i talenti che io ho sviluppato potrebbe in verità leggersi anche come un dato positivo perché vuol dire che ho in modo corretto sviluppato la persona tant'è che è uscita che è stata presa perché è riconosciuta come talento anche dal mercato qua chiaramente c'è la doppia la doppia faccia della medaglia il risultato delle valutazioni di performance annuali dicevamo normalmente il talento si accompagna ad un'alta performance continuativa ecco sarebbe bene che questo continuasse a verificarsi ma è anche vero che questo dato va incrociato con i passaggi di carriera perché una persona per quanto talentuosa che va a ricoprire una nuova posizione deve avere il tempo di riuscire a prendere la casella per intero e riuscire quindi a performare appieno sulla nuova casella con le nuove responsabilità che crescono e le nuove competenze che possono essere richieste quindi comunque la valutazione della performance dei talenti deve tenere conto anche della loro crescita e quindi la possibilità che in alcuni momenti questa possa ridursi in parte l'eccezionale sarebbe ovviamente che i talenti riuscissero comunque a mantenere una performance alta anche in caselle nuove anche su una crescita verticale sarebbe come dire la conferma che abbiamo identificato le persone giuste che abbiamo dato gli strumenti corretti per farle crescere e che quindi stanno performando bene anche nella loro crescita feedback da parte dei manager rispetto al programma quindi raccogliere durante il corso del programma e a chiusura del programma il feedback da parte dei manager è evidentemente un elemento essenziale perché sono i primi che in qualche modo possono testare e verificare che le proprie persone stiano crescendo sono anche quelli che normalmente in modo più diretto riescono a raccogliere il feedback dai talenti di nuovo è consigliabile un affiancamento costante delle persone che fanno parte del programma da parte delle risorse umane che quindi verificano periodicamente che il programma stia andando bene che stia rispondendo alle attese ma il coinvolgimento dei manager come dicevamo fin dall'inizio è essenziale e anche solo con queste ultime parole rivalisco come l'investimento in termini di risorse tempo in un programma di sviluppo è importantissimo il numero di richieste di passaggi interni di un talento da parte di altre funzioni è un altro elemento di successo come dicevamo prima se grazie all'exposure riesco a far conoscere questi talenti ad altre persone all'interno dell'azienda manager key people che addirittura li richiedano questo è sicuramente elemento che ci conferma che il programma sta andando nella direzione giusta infine l'indagine di soddisfazione del programma da parte dei partecipanti è un altro diciamo elemento scontato forse ma importantissimo anche qui si parla spesso di continuous feedback il consiglio è quello di fare indagini di soddisfazione a seguito di ciascuno degli strumenti che abbiamo messo in piedi quindi per esempio al termine di un corso di formazione dopo a conclusione del percorso di coaching se c'è stato e poi diciamo uno più complessivo alla fine del programma che vada a misurare tutti gli elementi che sono ritenuti di interesse da parte dell'azienda quindi per esempio anche c'è stato un passaggio di carriera era in linea con le tue attese eccetera sui passaggi di carriera vorrei fare un'ultima riflessione come dicevamo ciascuna azienda deve fare un po' i conti con quello che può effettivamente offrire alle persone quindi non sempre e non subito è possibile garantire un passaggio o un cambio di ruolo a tutti i talenti abbiamo detto che l'experience è quella che più pesa nello sviluppo delle persone e infatti normalmente è anche la cosa più richiesta proprio dai talenti quando si parla del loro piano di sviluppo individuale e delle loro attese è importante quindi gestire quelle persone che non sono riuscite nel corso del programma magari ad avere immediatamente un passaggio di carriera e quindi se dovesse concludersi la durata del programma stabilita prima che questo passaggio avvenga è bene riparlare con la persona per accertarsi di comunicare che chiaramente il talento visto che non ha un'età rimane diciamo nel cono di luce dell'azienda e gestire di nuovo le attese per non incorrere in problemi di retention e di uscita del talento queste sono diciamo le metriche alcune metriche che si potrebbero utilizzare per misurare il successo del programma altri dati importanti invece devono essere considerati dall'azienda nell'implementazione del programma intanto fare una verifica di quello che è stato l'investimento sostenuto quindi quanto ho speso effettivamente a livello complessivo e per ciascun talento in termini di partecipazione ad eventi corsi di formazione coaching quindi tutto quello che ho messo in piedi nel programma quanto è costato incrociato con le metriche precedenti quindi se effettivamente mi hanno dato una misurazione di successo del programma si potrebbe confermare l'investimento si potrebbe decidere di aumentare questo investimento ridurlo e chiaramente man mano che si procede anche il profilo del talento si potrebbe adattare dicevamo se risponde a quello che sono le esigenze dell'azienda in quel momento il piano strategico sappiamo che ormai io parlavo di medio termine perché di lungo termine ormai è praticamente impossibile parlare e i piani strategici cambiano continuamente sono quasi degli animali vivi anche loro quindi anche l'esigenza di talento potrebbe cambiare la definizione del profilo richiesto in quel momento può cambiare quindi anche l'investimento va riadattato a seconda dell'esigenza di quella fase aziendale il posizionamento retributivo è un elemento di cui non abbiamo ancora parlato ma che è assolutamente rilevante perché è abbastanza tipico per le aziende decidere di definire una strategia retributiva diversa per i talenti normalmente chiaramente per renderla più competitiva proprio perché c'è una guerra per i talenti e l'obiettivo uno degli obiettivi principali è quello normalmente di trattenere queste persone se tra l'altro si accampagnano anche a performance elevate come ci dovremmo attendere proprio da queste persone è quindi importante che loro al di là di il riconoscimento la cura di cui prima per cui vi ho detto le persone che si sentono curate dall'azienda tendono a performare meglio e in generale c'è proprio un piacere intrinseco delle persone quando si sentono curate ecco sicuramente anche la parte retributiva non può essere messa in secondo piano ed è rilevante quindi se l'azienda è dotata di una strategia retributiva e ha diciamo una definizione di posizionamento che vuole adottare rispetto al mercato in particolare per i talenti è importante definire quale vuole che sia questo posizionamento che normalmente dovrebbe essere superiore a quello dedicato al resto della popolazione è quindi importante nel corso del tempo sia dall'avvio quindi verificare qual è il posizionamento attuale di queste persone definire qual è il puntatore quindi il desiderato per queste persone e man mano nel corso del tempo monitorare e verificare che questo sia effettivamente eseguito certo è di nuovo che anche questo dato va incrociato con quello dei passaggi di carriera e cambio ruolo perché se c'è una promozione evidentemente normalmente la promozione si accompagna ad un incremento retributivo che si accompagna però anche a una copertura di casella inizialmente magari parziale e quindi chiaramente la crescita deve essere sebbene significativa perché certamente apprezzata dalla persona comunque deve anche essere sostenibile per l'azienda a questo punto la mia presentazione si conclude lascerei se c'è spazio a domande altrimenti intanto torno a vedervi ah vedo una domanda scusate io avevo detto prima che purtroppo presentando non riuscivo a vedere le domande Matteo sì io volevo volevo chiederti sono arrivato un pochino in ritardo quindi magari ho perso qualcosa e quindi mi scuso ma volevo chiederti come si potrebbe definire una sorta di approccio etico al programma di sviluppo dei talenti se ne può parlare ha senso è una domanda che ha un senso oppure no allora penso che abbia moltissimo senso almeno almeno per due motivi o per due considerazioni che così a caldo mi viene da fare uno il profilo etico del talento e quindi non so a tu a che punto si è arrivato però dicevo inizialmente che l'azienda deve identificare il talento che meglio risponde alle sue esigenze ma meglio risponde anche a quello che è l'azienda quindi dicevo che dovrebbe fare riferimento se ce li ha per esempio al suo set di valori a un leadership a un modello di leadership se l'ha definito ai comportamenti aziendali se li ha definiti insomma diciamo che in un'azienda che ha questi elementi il talento deve anche rispondere a questo tipo di profilo per essere riconosciuto come role model e certamente deve essere il primo promotore di un modello etico all'interno dell'azienda per tutti i temi che vengono trattati oggi da diversity and inclusion ma anche temi di ESG mi viene da dire il talento dovrebbe essere il primo garante di una conduzione etica del lavoro appunto proprio in un'ottica di role model l'altro elemento che mi veniva in mente è la gestione etica del talento rispetto al resto della popolazione io nella mia presentazione mi rendo conto di avere prestato forse molta attenzione nel sottolineare come gli esclusi dal programma siano una componente assolutamente non trascurabile dell'azienda e quindi l'impegno dell'azienda eticamente a prendersi cura di tutte le persone per me rimane un elemento fondamentale per il successo quasi più che il successo dei talenti stessi o insomma di quel pool limitato di persone non so se ti ho risposto se ho dato uno spunto rispetto alla tua domanda grazie grazie molto interessante soprattutto ho apprezzato molto il tema di come prendersi cura anche degli altri che mi sembra molto importante grazie grazie a te Matteo Giancarlo no però sei in mute non ti sentiamo eccolo scusa no la mia più che altro è una curiosità insomma che appartiene un attimo al mio passato di sindacalista insomma di sindacalista nel pubblico cioè un programma del genere viene negoziato o in qualche misura messo su un tavolo negoziale con le parti sociali oppure no per la mia esperienza no no però è un elemento interessante che potrei portare sul tavolo prima di tutto nella mia società lì devo dirti si lega molto proprio al tema anche della trasparenza che di nuovo va anche nella direzione della domanda di Matteo dell'etica legata al programma nel senso che è vero che le persone godono nella propria crescita anche della visibilità del riconoscimento da parte di tutti però non necessariamente l'azienda può ritenere una scelta etica quella di sbandierare questo programma e quindi la comunicazione al talento viene data nell'ambito in cui si dice l'azienda si sta prendendo cura di te sta investendo su di te se nel nostro cono di luce non invece vado a sbandierarlo in giro ma nemmeno verso l'esterno per una preservazione proprio invece di quel resto della popolazione che comunque riceve una formazione uno sviluppo ma chiaramente come si diceva prima con delle risorse inferiori quindi devo dire che al tavolo sindacale io non l'ho visto portare però è un elemento interessante da considerare perché io ritengo che un sindacato serio dovrebbe essere interessato ad una ad uno sviluppo del genere o quantomeno sapere che che c'è questo tipo di attenzione e di programmazione insomma vero verissimo che di nuovo quindi fa porre la domanda al contrario il non comunicarlo il non comunicare l'esistenza di un programma di questo genere è etico e lascio io la domanda aperta Ruggero io ho avuto la fortuna o la sfortuna non so di vivere un'esperienza penso ormai quasi preistorica di gestione di un programma per talenti in Dolce Bank circa 25 anni fa in quel momento io avevo un ruolo manageriale quindi ero coinvolto diciamo così non ero oggetto del programma ma avevo appunto quelle funzioni che tu hai descritto e io immagino anzi da quello che tu hai esposto sicuramente sono stati fatti molti passi in avanti in termini di articolazione di controllo di pianificazione allora era veramente un aspetto un po' rudimentale la cosa però due cose che allora avevo vissuto e che mi interesserebbe capire se nella tua esperienza sono ancora presenti o meno e uno è il tema fondamentalmente della difficoltà della coerenza nel senso che quando tu dici giustamente l'azienda ha questo sviluppo un programma per chi ritiene possa avere certe caratteristiche ma si prende cura anche diciamo del restante 95% io qui ho vissuto in particolare in quella situazione perché ero particolarmente coinvolto ma poi mi è capitato anche in altre situazioni di verificare la difficoltà di una reale coerenza tra gli obiettivi di sviluppo di chi si ritiene possa avere un ruolo diciamo così di punta all'interno dell'azienda e le policy che vengono seguite sul resto quello mi sembra un tema veramente molto difficile da gestire per niente facile e in qualche modo queste difficoltà anche secondo me sono la base del fatto di non condividere con le parti sociali un programma del genere proprio perché è talmente delicato il meccanismo che vederselo sindacato sindacato se è messo in questione diciamo così può essere una difficoltà nella difficoltà e poi l'altro punto è l'evoluzione delle figure manageriali ovvero ai miei tempi quando ho vissuto quell'esperienza i manager facevano una grandissima fatica a mettersi veramente in linea con quel tipo di approccio proprio perché magari venivano da culture organizzative diverse e vivevano come una minaccia questo anche reale nel senso che per esempio una persona che io ho inserito candidato in questo tipo di percorso è poi diventato il direttore della divisione popolare Rebecca scazzando colleghi che avevano magari 20 o 25 anni di esperienza in più quindi questi due temi ti volevo sottoporre quello della coerenza complessiva e quello della capacità dei manager di essere parte come dire convintamente partecipe di questo tipo di programmi allora grazie per le domande è vero che questa coerenza che tu dici poi si accompagna anche un po' al tema dell'investimento che dicevamo prima perché appunto le risorse sono limitate eccetera eccetera inoltre mi viene da dire l'esempio che tu hai fatto di una Deutsche Bank quindi di un'azienda molto grande molto strutturata chiaramente affronta difficoltà diverse rispetto anche a un'azienda di medie dimensioni più da tessuto italiano diciamo posto che anche in Italia ci sono grandi aziende comunque perché dico questo perché la possibilità di dedicare comunque delle attività di sviluppo a tutta la popolazione per forza risente della dimensione aziendale da quanti anni le persone in azienda e quindi quel corso l'ho già fatto che cosa mi invento quest'anno per tutto il resto della popolazione mentre mi focalizzo sullo specifico di quei talenti in verità in verità per esempio da noi proprio il lancio del programma di sviluppo ci ha dato l'opportunità di fare dei corsi manageriali per tutti i manager proprio per migliorare la gestione delle persone indipendentemente dal fatto che fossero talenti o meno quindi abbiamo lavorato tantissimo sul tema della leadership sul tema di come dare il feedback su come chiederlo perché il lancio di un programma di sviluppo comunque appunto porta necessariamente con sé sfide malcontenti gestioni difficili e anche a proposito dell'esempio che hai fatto di il talento che ti passa davanti o peggio ancora in realtà la persona che viene promossa al posto del talento perché poi succede anche questo come gestire quelle attese disattese quindi in realtà diciamo dietro ogni criticità si rasconde sempre un'opportunità l'importante è trovare per ciascuna azienda il modo migliore io dico per prendersi cura delle persone noi in Zambon c'è una una cosa bellissima che la dottoressa Elena Zambon ha ideato che si chiama Benvivere che è secondo me è un'espressione bellissima per dire che l'azienda cerca in qualunque modo in tutti i modi possibili di prendersi cura delle persone chiaramente da noi quindi è stato fatto con questo tema di coerenza che tu dici e ogni azienda dovrebbe cercare di trovarlo è evidente che poi ogni realtà ha le sue sfide differenze però è un tema molto caldo molto attuale ecco purtroppo perché tu dici l'esperienza passata ma in realtà devo che sia molto attuale grazie grazie a te bene credo che non ci siano altre domande vi ringrazio moltissimo per quelle che avete fatto e per avermi ascoltata e con questo direi che vi saluto e vi auguro una buona serata grazie grazie a te grazie 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 martha ciao 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 grazie a te grazie a te